Buongiorno Davido, oggi 9 novembre, ieri c'è stata, come avevamo detto, la discussione a porte chiuse su EIDAS, il framework europeo. Non sto a ripeterlo, se non avete sentito la puntata di ieri o non sapete insomma bene di cosa sta parlando, che cosa sia EIDAS, questo regolamento europeo, insomma potete sentirvi appunto il buongiornissimo di ieri 8 novembre e do una spiegazione estensiva dei problemi, soprattutto inerenti all'articolo 45 di EIDAS. Come avevo detto insomma ieri, nonostante le forti pressioni, i segnali incoraggianti su possibili cambiamenti dell'ultimo minuto non c'erano, non si sono visti anche per le risposte molto ostili della stessa Commissione europea e di vari esponenti del Parlamento verso appunto oppositori o semplicemente critici di questa norma. E quindi appunto ieri c'è stata la discussione, è passato tutto e quindi questo regolamento andrà discusso adesso in Parlamento all'inizio del prossimo anno. Insomma siamo ancora in tempo volendo per provare a fare delle pressioni ai parlamentari europei, quindi scrivere delle lettere, delle email ai parlamentari, gli indirizzi sono tutti pubblici, e provare insomma un po' a fargli notare che la cosa potrebbe presentare dei problemi. Io vi faccio vedere il tweet di Thierry Breton, che è il commissario appunto, che è molto contento di questo risultato, insomma ha scritto questo tweet di vittoria, ce l'abbiamo fatta, è insomma un grosso passo, una prima volta nel mondo, insomma complimenti al mio team, anche questo abbastanza stupidino, filmatino in loop di 4 secondi con loro che fanno il segno del pollice in su, e va bene. E poi c'è anche un, se volete approfondire, c'è una press release, un comunicato ufficiale sul sito della Commissione Europea che è ec.europa.eu, dove appunto, che si intitola, la Commissione, insomma accoglie l'agreement finale su EU Digital Identity Wallet che appunto riporta tutte queste informazioni. Vabbè, la cosa si sapeva insomma che sarebbe passato così, e va bene. Quello che un po' dispiace insomma è come ora sia, come sia stato comunicato ecco questo risultato, perché, viste le opposizioni, viste le critiche, visto la forte pressione di parte dell'opinione pubblica, quella ovviamente è più informata perché non si riesce a informare tutti, soprattutto quando ci sono queste cose che avvengono un pochino dietro le quinte, perché ricordo che l'articolo 45 non è che sia proprio stato pubblicizzato ecco come cambiamento, cioè è stato pubblicizzato questa cosa del wallet, ma il wallet è soltanto una parte di questo regolamento. Poi c'è questo articolo 45 sui browser, ci sono anche altre cose, ci sono e-directory tipo delle cose che gestiscono appunto lo storage di queste informazioni, ma va bene, ci sono altre cose, ovviamente il pubblico non ne ha conoscenza perché magari sono cose un po' tecniche, però ecco magari anche nel comunicare la riuscita della discussione, fare riferimento magari a cercare di tranquillizzare un po' parte dell'opinione pubblica preoccupata, visto che hanno letto le pressioni da parte del mondo della ricerca e di qualche mondo corporate, insomma e dell'open source su questa cosa, anche tranquillizzare dicendo che comunque l'intento è di fare delle cose buone, quindi comunque di non preoccuparsi perché la cosa andrà bene, quello magari avrebbe, no? Così, sarebbe stato un bel messaggio da dare, invece no, ce l'abbiamo fatta tutto a posto, avanti così. Ma bene, lo stile di comunicazione è questo qua, lo stile di Breton, ormai abbiamo imparato a conoscerlo, questo non mi fa impazzire sinceramente, però va così. Tra l'altro le iniziative in questo senso, cioè le leggi e le appunto amministrazioni pubbliche che mettono, adesso vanno sempre più a mettere mano nella tecnologia, ovviamente saranno sempre di più, sempre più importanti e ne parliamo anche oggi, ce n'è, c'è da parlare anche oggi di una cosa del genere, cosa che in realtà già sappiamo però, c'è un approfondimento su una legge di questo tipo in UK. Andiamo con ordine, quindi andiamo a vedere di che si sta parlando. Allora, in UK, adesso sono su The Verge, c'è un articolo che parla proprio delle nuove regole per internet e ora la faccenda si fa ancora più seria e parla appunto dell'Ofcom, che è l'autorità per le comunicazioni della Gran Bretagna appunto e che parla della messa in pratica insomma di alcuni concetti fondamentali dell'Online Safety Act che è un po' il Digital Services Act UK, versione UK del Digital Services Act che è anche un pochino diverso, però insomma segue quella logica lì, no? Cioè rendiamo le piattaforme online responsabili per i contenuti che vengono pubblicati sui loro siti, oltre ad altre cose, oltre naturalmente a consentire agli utenti di queste piattaforme di lamentare comportamenti scorretti o lesivi, insomma questo dovrebbe essere un po' la vision di questo pacchetto di norme. Insomma infatti l'articolo di The Verge va appunto a specificare che questa serie di norme va a indirizzare come le piattaforme di social media, i motori di ricerca e i videogiochi online e mobile, oltre ai siti di pornografia, debbano fare attenzione insomma a contenuto, devono gestire contenuto illegale e il famoso CSAM, C-S-A-M, che è l'acronimo che sta per Child Sexual Abuse Material che trovate anche un po' sparso in tutte le legislazioni, questa sigla CSAM, oltre naturalmente a terrorismo, insomma contenuti di terrorismo e fraudolenti. Quindi c'è un investimento di responsabilità verso le piattaforme tecnologiche per la sicurezza degli utenti, questa è una dichiarazione di Gil Whitehead, che è il safety lead, l'online safety lead di Ofcom e dice quando queste piattaforme diventano, insomma vengono a conoscenza di contenuto illegale sul loro sito, sulla loro piattaforma, devono cancellarlo, tirarlo giù e devono condurre del risk assessment per capire i rischi che questi specifici servizi online possono portare. Quindi l'intento qui è di rendere il sito proattivo, quindi cambiare la logica da una logica reattiva, quindi quando c'è un problema intervengo, a una logica proattiva, cioè agisco affinché il problema non si presenti, che a livello tecnologico è un pochino complessa la questione, e lo sappiamo, e infatti poi viene anche indirizzata un pochino. Comunque dice, l'Ofcom stima che ci sono circa 100.000 servizi che dovrebbero entrare all'interno di questo sistema di regole e si dice che queste piattaforme, si chiede che queste piattaforme implementino delle policy che non permettano a stranieri, stranieri insomma sconosciuti, di mandare messaggi diretti ai bambini e che usino dei meccanismi di hash matching per fare detection di CSAM. Sono sincero, non so che cosa voglia dire. Come si faccia ad usare un hash matching per fare detection di CSAM? Evidentemente qualcosa c'è, ma non nessuna conoscenza. E poi fare della content moderation, search moderation, e anche dare dei modi agli utenti di fare reporting di contenuti dannosi, illegali. Comunque è una cosa che già molti fanno, ci sono già le modalità per fare questa cosa. Diciamo che il grosso escluso qua dalla partita delle società online che sono proattive in questo senso è Twitter, o l'ex Twitter insomma, perché sappiamo bene che per esempio gli utenti di Twitter in questo momento hanno molte difficoltà a bloccare altri utenti. Infatti il signor Musk ha detto più volte che la sua intenzione è di rimuovere completamente questa feature, la feature di blocco. Ma comunque Whitehead non ha poi aggiunto niente riguardo a X, non ha commentato su domande riguardo a Twitter. E quindi c'è una sezione poi dedicata alle motori di ricerca che devono dare informazioni sulla crisis prevention, quindi quando qualcuno fa le ricerche relative ai suicidi per esempio, devono appunto fornire delle informazioni di questo tipo per prevenire crisi di questo tipo, e poi devono condurre appunto un risk assessment per non amplificare contenuti illegali. E tutte queste cose qua sono appunto leggi, e se qualcuno non è compliant con queste leggi, ci sono delle multe piuttosto salate, sono multe fino a 18 milioni di sterline, quindi circa 22 milioni di dollari, naturalmente qua siamo su un sito americano, oppure il 10% del totale dei ricavi mondiali, quindi qualunque delle due sia più alta. E poi c'è una sezione in particolare che è critica, che è quella che potrebbe appunto mettere in pericolo la comunicazione criptata, end to end, delle app di messaggistica, cosa che abbiamo già visto con l'Unione Europea. Infatti le proposte sono simili, anche qua c'è una sezione che richiede alle piattaforme di usare della tecnologia accreditata per fare detection del famoso CSAM, ma è appunto Whatsapp, ma anche Signal e altri, e oltre ovviamente anche a, come abbiamo visto, associazioni non profit per i diritti civili digitali, hanno fatto notare che questo tipo di tecnologia, questo tipo di scanning, va proprio a minare la privacy degli utenti, perché significa rompere i protocolli di criptazione end to end e andare a spiare, anche se in maniera automatica, ma poi comunque consentire a un regolatore anche di andare a vedere, dopo che le segnalazioni sono state appunto mandate, quindi va a rompere questi meccanismi di protezione della privacy dei cittadini, quindi in pratica le comunicazioni diventerebbero non più private. Ma Whitehead ha risposto che i piani dell'Offcom sono di consultare, insomma di fare delle consultazioni con degli esperti per capire se questa roba sia fattibile. Poi dopo chiudo con una nota della Wikimedia Foundation che dice che tutte queste norme sono molto onerose da rispettare e per siti come Google o Amazon che hanno uffici legali molto ampi, insomma è ovviamente una serie di tecnici, una quantità di tecnici non banali, una quantità di engineers non banali. Ecco rispettare queste cose è un conto, per Wikimedia, che invece è una non profit, ogni ora spesa, insomma è un'ora che non è destinata a guadagnare, insomma, e quindi per loro è molto più difficile. L'Offcom ha risposto che hanno ragione, insomma lo sanno, però cercheranno dei modi per rendere questa cosa sostenibile un po' da tutti. Ma tornando alla famosa critografia end to end, aggiungo anche che l'Irish Council for Civil Liberties, che è un'associazione non profit irlandese che si occupa appunto dei diritti civili, aveva mandato una richiesta all'Ombudsman, che sarebbe il mediatore, tipo l'organo mediatore della Commissione Europea, quindi aveva mandato una richiesta per chiedergli, tra le altre cose, quali fossero questi esperti consultati dalla Commissione Europea che gli hanno riferito che è possibile fare della detection del CISAM o di altri materiali illegali nelle comunicazioni end to end delle chat senza rompere la critazione end to end. Perché questo è stato quello che poi la Commissione Europea ha risposto. Ebbene, c'è appunto una news pubblicata sul sito di Irish Council for Civil Liberties che dice che in risposta a una richiesta riguardante questa regolamentazione la Commissione Europea non ha spiegato, non ha dato disclosure della lista delle compagnie o degli esperti che sono stati consultati proprio per la fattibilità tecnica di fare detection di CISAM senza rompere l'accreditazione. E il mediatore europeo ha detto che la non risposta della Commissione a questa domanda costituisce mala amministrazione. Quindi poi l'articolo dice numerosi esperti hanno più volte fatto notare, hanno più volte sollevato la questione che questo detection, questo guardare dentro le chat crittate degli utenti senza rompere la crittografia end to end non è tecnicamente fattibile e non lo sarà per i prossimi anni. Questo è in contrasto con quello che invece ha detto la Commissione dicendo che ha consultato una serie di esperti che gli hanno garantito che invece questa cosa è fattibile. Nel dicembre del 2022 la ICCL, appunto l'Irish Council, ha mandato delle proteste al mediatore europeo per chiedere che la Commissione facesse disclosure pubblica di questa lista di esperti. Ma la Commissione Europea si è rifiutata e ha comunque riferito al mediatore che sono in possesso di questa lista di esperti. Ma hanno anche detto che fare disclosure di questa lista non fosse negli scope di questa domanda, di questa richiesta di ICCL. Questa è la risposta. E la reazione del mediatore europeo, il commento del mediatore europeo è che questo costituisce mal amministrazione. E si chiude così. Per ora la Commissione Europea ha deciso che si possono spiare le chat degli utenti senza rompere i sistemi di criptazione end-to-end perché gli hanno detto degli esperti che loro hanno consultato. Però chi siano questi esperti non lo possiamo sapere. Per ora non c'è una lista. Allora, cambiamo argomento che mi sono già rotto di parlare di mal amministrazione. Allora, parliamo del GitHub, dell'evento GitHub che si sta tenendo in questo momento in California, in Silicon Valley, perché ieri c'è stato questo keynote sul palco del CEO di GitHub, che è Thomas Domk, non so come si pronuncia, spero che si pronunci così, unito insieme al CEO di Microsoft, Satya Nadella. Sapete che GitHub è una compagnia di Microsoft e si è parlato di una GitHub rifondata, proprio parole del CEO, Refounded GitHub. Rifondata su cosa? Beh, la dichiarazione esatta è come GitHub era stata fondata su Git, oggi è rifondata su Copilot. Non so se vi piace questa dichiarazione. Quindi ci sono state una serie di nuovi annunci, di nuove cose in GitHub, tra queste un sistema di prevention e detection di vulnerabilità di sicurezza nel codice che stiamo scrivendo, grazie alla AI, grazie appunto a Copilot, che è in grado di fare detection di coding pattern insicuri. Quindi c'è un modello che va a identificare dei coding pattern vulnerabili, insomma, come per esempio credenziali arcodate, oppure SQL injection, o path injection. Questo è quello che è stato dichiarato da GitHub. E naturalmente, The Stack, qui sono su The Stack, va a commentare appunto che c'è, come si può vedere dai dati delle CVE, analizzando le liste delle CVE, c'è un aumento notevole dei casi delle CVE segnalate per SQL injection. E anche l'Open SSF, l'Open Source Security Foundation, ha proprio descritto, ha messo in guardia più volte contro il problema endemico del codice insicuro che si può trovare anche in Open Source, si può trovare su GitHub. Quindi questa iniziativa, diciamo, se è volta a rendere il codice più sicuro, ecco, è ben voluta, è ben vista, insomma. Il problema è che ha un suo costo, infatti, questa viene inserita dentro a Copilot Enterprise, che per ogni utente, insomma, ha bisogno di una donna da 49 dollari al mese. Quindi si parla comunque di cifre importanti destinati a progetti Enterprise, appunto. Poi, tra le altre novità, insomma, di Copilot, ci sono nuovi comandi, degli slash command, quindi apparentemente, insomma, su, grazie all'estensione di Copilot, su code, potete scrivere, tipo, slash fix, per generare dei fix al codice vulnerabile, oppure, slash tests, per generare dei test sul codice. Dopodiché, è stato anche annunciato che Copilot, insomma, sta arrivando su JetBrains, insomma, sulla suite di IDE di JetBrains. Ci sono stati degli altri annunci, dopo ovviamente aver fatto il classico Octoverse annuale, quindi la survey sui developer annuali di Github, che tra l'altro ha mostrato che ci sono 450 milioni di progetti su Github e più di 4 miliardi e mezzo di contribuzioni in 2023. Vabbè, non so bene come leggere questi numeri, vabbè, roba, un sacco di roba. E poi, hanno annunciato nuove, nuove feature di comprensione del linguaggio naturale in Github Copilot Chat, che vuol dire, insomma, poter fare, poter conversare con Copilot Chat in modo più naturale, per chiedergli robe sulla programmazione, insomma, su cose che non si capiscono, che, probabilmente, è un altro colpetto notevole anche a Stack Overflow, ma va bene. E poi, naturalmente, si è parlato della security e di come questo approccio alla prevenzione delle vulnerabilità di sicurezza nel codice segue un po' la scia del shift left nel paradigma DevSecOps, no? addirittura, anticipiamo, impediamo addirittura che il codice formatato male o vulnerabile arrivi in produzione. Quindi, questo dovrebbe essere un po' il mantra. E poi, naturalmente, si parla, insomma, di Copilot sul palco e, con questa dichiarazione del CEO Domki. ChatGPD è lo sviluppo più importante nel campo tecnologico dall'arrivo dei browser internet. Questa è la dichiarazione, non so anche qui se siete d'accordo, eh? Con questa dichiarazione. E insomma, si parla sempre di questo Copilot Chat che è, insomma, powered by GPT-4 che arriverà in dicembre e sarà parte di questo refounding di GitHub. E va bene. Ecco, questo è un po' per descrivere il nuovo corso, apparentemente, di GitHub fondato sulla AI. Siamo contenti? Non siamo contenti? Non lo so. Però questo è, questo è il nuovo corso. È tutto fondato sulla AI. Tra l'altro, non solo GitHub è fondato sull'AI, c'è un altro, c'è un altro grosso attore del panorama cloud e open source che si fonda sempre di più sull'AI e lo andiamo a vedere nella prossima news. Eh sì, ve la riporto molto velocemente. In questi giorni si sta svolgendo a Chicago anche un altro evento importante che è la CubeCon, avevamo accennato nei giorni scorsi. E appunto, si alterano figure importanti sul palco, tra cui l'executive director di Cloud Native Computing Foundation, CNCF, che è Priyanka Sharma, che appunto ha fatto vari proclami riguardo all'AI sul palco. Tra l'altro ha fatto anche una demo su Kubernetes che però ha avuto dei problemini, è fallita, ha avuto dei problemi mentre stava creando delle risorse locali. Tra l'altro stava cercando di creare un chatbot, insomma. Quindi sta facendo una demo sulla creazione perché l'intento era un po' mostrare cosa c'è alle spalle, insomma, cosa c'è, cos'è che permette ai sistemi di AI nel cloud di funzionare, insomma, è sempre Kubernetes perché Kubernetes al momento è dappertutto. Ecco perché hanno parlato di Linux Moment, no? Cioè Kubernetes ormai è nello stack cloud, è un dato di fatto. E quindi sta facendo questa demo per mostrare appunto cosa c'è dietro i sistemi di AI creando un chatbot locale. Questa demo poi ha avuto dei problemi, è fallita e questo a molte persone ha ricordato, no? Un momento Windows 98 più che un momento Linux. Comunque, insomma, molta enfasi sull'AI o sull'AI in Enterprise, naturalmente, come futuro, insomma, di CNCF, insomma, futuro fortemente legato all'AI anche se, questo è un commento che fa The Register, sono qua sul sito di The Register che ha fatto un commentino, insomma, a questa CNCF ce ne sono altri, in realtà, di commenti che non riguardano l'AI, per esempio, quello del CTO di CNCF che è Chris Anishik, avrò sbagliato anche qua il cognome, comunque, che invece ha parlato di WebAssembly come futuro della tecnologia sotto i container. spero tra l'altro che ne potremmo parlare ancora, perché è un tema che mi interessa particolarmente. Nota di colore si è parlato un pochino soprattutto nel pubblico della questione delle licenze perché si sono alternate sul palco in uno dopo l'altro che si è un po' fatto notare, insomma, prima Red Hat e poi Oracle, sapete che effettivamente tra i due le cose sono un po' frizzantine, sono un po' elettriche, ecco, e quindi c'è stato Red Hat sul palco che ha fatto la sua presentazione e poi è arrivata Oracle che ha appunto presentato invece una cosa che va proprio totalmente contro Red Hat perché ha presentato la sua Open Ela, il Enterprise Linux Association e questo progetto di far creare distribuzioni compatibili con Red Hat Enterprise Linux, sapete che era stato creato in seguito ai cambiamenti di licensing di Red Hat, loro hanno creato questo Ela assieme sono Oracle e non mi ricordo chi, Suse, ecco, Oracle e Suse, ecco, e quindi insomma questa alternanza sul palco Red Hat e poi Oracle si è fatta naturalmente notare. Insomma, questo è un po' il mood che si respira in questo momento nella CNCF alla KubeCon, sempre più Enterprise, naturalmente sempre più Corporate perché è lì che si gioca la partita, l'adozione di Kubernetes in Cloud nell'Enterprise e nel Corporate, si parla molto di AI, un pochino di questioni tecniche che riguardano WebAssembly nei container e la questione licenze con due grandi protagonisti Red Hat e Oracle che se le danno metaforicamente sul palco, magari anche fisicamente, potremmo fare un incontro stile Zuckerberg versus Musk da qualche parte con il CTO con il CTO di Oracle e Red Hat. Sarebbe carino, vabbè. Chiudiamo la quava. E la chiudiamo davvero, grazie per avermi seguito. Vi ricordo, tra l'altro, che poche ore fa è uscita in podcast e su YouTube la puntata che abbiamo registrato ieri sera in Continuous Delivery con Francesco Corti, puntata meravigliosa, tra l'altro, si è parlato proprio di questi ultimi temi di open source, di licenze, di cloud. meravigliosa, secondo me, proprio divertente anche da sentire, molto formativa. Francesco, insomma, la conoscete, è fantastico da sentire, quindi vi consiglio di andarvela ad ascoltare o vedere, insomma, su YouTube. Grazie per aver seguito anche questa puntata del Buongiornissimo e noi direi che ci vediamo a una prossima. Ciao!